Bene, allora siamo al terzo tempo, una partita diciamo che era indecisa fin dall'inizio. Leonardo, che partita hai visto te dalla panchina? Non ho giocato bene, sono meritati comunque. Tutte e due, diciamo. Poi i gol mangiati, i gol mangiati poi ne possiamo... Va bene, facciamo fin da di niente. Simone, che ambiente hai trovato, il palla al centro, ti piace? Bene, questo lui lì, vi siete divertiti comunque, perché poi alla fine è stata una partita vera. Hai fatto diversi gol? Non è il gol, la cosa più importante è che ci siamo divertiti. Vi siete fatti tanti complimenti con un giocatore della squadra avversaria. Io a prescindere, faccio sempre complimenti, vengo aperto sempre. Questo tanto, Jimmy. Appena l'ho visto che è arrivato, ha detto, ne subisco 7-8. No, però ne hai subito di meno, ne hai subito di meno. Allora, diciamo comunque, ve l'aspettavate di questo cambiamento che ha fatto l'Old West? No, ha vinto e basta. Rispetto a prima, non mi ricordo se non c'avevi giocato. No, non mi ricordo, sono mangiato ieri. Scegli, questo copper, questo copper. Sì, scusate, Massimo a curvatura? Eh, soli. Non li fanno correre, se da... Li fanno patire. Non è meno male, per 4 o 5 partite avanti alla porta, li sbagliano. Li sbagliano, meno male. Aspetta, aspetta, aspetta un attimo, allora fermi. Confermi i gol sbagliati. Massimo, nell'economia di una partita... Due cose, l'Old West è quello che inizia la penale, è molto più forte. È quello che si stava dicendo, appunto. E il primo, secondo, ci siamo mangiati veramente troppi, non tanti, troppi gol. Troppi, eh. Forse si poteva vincere con un po' di precisione sotto qua. Ecco, con più... No, non è allora, a me che sono bravi. Allora... Ora è una squadra. Spidi Gonzales, ti posso chiamare Spidi Gonzales, non sai andar piano. Hai paura della multa dell'autovelox. Allora, comunque è stata una partita vera, diciamo, combattuta fino all'ultimo, giusto? Sì, sì, è stata una bella partita, a partire. Avresti voluto... Potevate vincere. Allora, che ambiente hai trovato innanzitutto in palla al centro? Ma innanzitutto questi sono tutti ragazzi giovani, corrono, sono bravi, insomma, poi sono sportivi. Sono bravi, sì, sì. Quindi l'ambiente ti è piaciuto? Sì, sì. Non è da calcio a undici, giusto? No, no, mi resta un po' più calmo. Bravissimo, questo è quello che volevo dire. A tutela di tutti. Asan, aspettate ragazzi, avete mangiato tanti gol, è quello che abbiamo detto tutti. Comunque vi siete divertiti, la partita è stata vera. Matteo. Bella partita, anche se ho giocato poco, però mi sono divertito. Beh, l'importante è quello poi. Bravi ragazzi e complimenti, bravi. Grazie. Grazie. Ciao.